Oh, porca! Ci alzeremo in volo questa sera, professore? No, no, no! Temo di no! Questi vecchi modelli sono alla totale mercè dei venti E oggi temo che ce ne sia davvero troppo per rischiare Ora, questo modello in particolare Cosa credete di fare? Uscite immediatamente da lì! Toglia le funi! Ti copro io! Voi vi potete mettere i piedi in testa! Che screzzata! Senti presto! Non so io! Coprimi però! Sparagli! Sto pensando... Però è lì! Arno! Arrivo subito! Ferma! Provo a resistere! Benzale! È davvero bello da qua su! Vedrai che panorama! Ma non mi dire! Ma non mi dire! Il vento aumenta! Il vento aumenta! Ho capito! Già! Grazie! Grazie del consiglio, eh! Per caso hai pensato a come faremo a tornare a terra? Per caso hai pensato a come faremo a tornare a terra? No! Queste faccende si risolvono da sole! Ehi! I tetti stanno quasi per finire! Spero tu abbia un piano! Guarda come mi schianto bene il fiume! Potrebbe esserlo! Lasciali stare e corri! Ci penso io! Non fermarti! Eh, si riescono di arrivare lì, no? Un po' un problema! Ma è lì! Prendetelo! Fermateli! Un momento, cittadini! Ignorali! No! Ignorali! Capito! Mi provano che sono un po' lontanino! Un cesto volante è bizzarro! Si può fermare a qualche parte quella cosa? È lui! Che è successo? La fune si è incastrata! Un momento! Un momento! Tornate giù! Questo è un piccolo problema! Arnaud! Arnaud! Tutto bene! Arnaud! Forse stanno cercando di colpire me! Cos'è stanno cercando di colpire me! Cos'hai combinato prima? È una lunga storia! Sono qui! Mirate! Vuoi venire o no? Dovrei parlare di questo a Napoleone! Dovrei parlare di questo a Napoleone! Napoleone! Pirate! Marco! Presto! Ricaricare! Ancora! Vai! Tu non hai capito Elis che io qua sto morendo qui! Dai! Posso fare! Siamo quasi al fiume! Presto! Ricaricare! Arrivo! In futuro, alla fuga ci penso io! È bellissimo! Da quassù non si direbbe proprio che la Francia stia andando in pezzi! Le... Le cose torneranno mai come erano prima, secondo te? E per te? Dopo quello che è successo... E ciò che abbiamo perso... Quindi è finita? Io... Il corso della storia è cambiato! Non si torna indietro? Non si torna indietro? Ma... Andare avanti non significa farla finita! Elisa... Io... Hai barato! Sei così lento! Ti amo! Ti amo! Ti amo!